Il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti ha bisogno di soldi per aumentare la busta paga degli insegnanti che come sappiamo in Italia è molto bassa. Per farlo propone una serie di piccole tasse che vanno a ricadere su dei consumi cosiddetti negativi ossia che fanno male alla salute o inquinano. Si tratta di un piccolo rincaro sui biglietti aerei, si parla di un euro per i voli nazionali, un euro e mezzo per i voli internazionali, un piccolo aumento sulle bibite gassate e anche sulle merendine zuccherate. Questa idea ha suscitato una serie di critiche, tra i no più noti da parte della maggioranza ci sono quelli di Renzi e Di Maio. Probabilmente non se ne farà nulla, purtroppo, perché una norma cosiddetta sugar tax, una tassa sullo zucchero, c'è in molti paesi, specialmente nel nord Europa, tra cui anche Gran Bretagna, eccetera. Quindi benvengano le tasse.